a facoltà. Grazie Presidente, oggi qui stiamo dando una risposta importante alla grande crisi Covid con grande partecipazione. Purtroppo i tempi previsti dalla normativa sono questi, i più ristretti possibili e saltare questi passaggi, ci è stato detto dagli uffici, avrebbe inficiato la delibera, per questo ha richiesto un tempo così lungo. Abbiamo però da fare un percorso di condivisione lungo, tortuoso, faticoso con tutti, purtroppo il PD lo ha abbandonato anzitempo, è stato fatto un lungo lavoro con i gruppi consigliari, le commissioni, gli operatori, le associazioni di categoria, i municipi e anche i cittadini presenti in commissione e hanno portato alla presentazione di diverse delibere, consigliari e di giunta, oggi stiamo trattando la delibera di giunta che l'Assemblea ha ritenuto di emendare in alcuni punti. Ringraziamo innanzitutto la giunta e gli uffici per il grande lavoro fatto che riconosciamo, un lavoro estenuante anche da parte loro, un lavoro attento, un lavoro preciso, puntuale ed anche veloce da un certo punto di vista perché sicuramente non era facile andare a interpretare il decreto legge e tutta la luce del decreto legge e la normativa vigente e la definizione anche degli stessi criteri è stata un lavoro che ha richiesto uno sforzo estenuante da parte di tutti. Pur apprezzando l'impianto della delibera però siamo dovuti intervenire sulla durata e sui criteri perché chiunque giri per il centro storico, non la sera dopo le 23 fino alle 6 di mattina nei luoghi della mala movita direi, si rende conto di perché. Il centro è deserto, ho fotografato e fatto video di strade semideserte, la metà dei negozi sono chiusi, qualcuno cerca di compensare le enormi perdite che ha dovuto subire in questo periodo ma non ce la farà in questo periodo, non ce la farà ora, ecco perché siamo dovuti intervenire, ci sono quartieri come il centro storico e l'Eur che vivono di turismo e di uffici, siamo ancora smart working e quindi le due fonti principali di reddito di queste attività non esistono oggi. Quindi i famosi sei mesi fino al 31 ottobre sono inefficaci in questo periodo. Ecco, oggi sono a rischio non solo le attività produttive che qualcuno magari non riesce a comprenderne l'utilità ma la Costituzione stessa prevede, ma anche i posti di lavoro del settore e non so quanto tempo ci vuole poi a ripristinare attività produttive e posti di lavoro. E queste attività, che lo vogliate o no, che lo comprendiate o no, contribuiscono al benessere della nostra società, fanno PIL che poi ci relazionano nel panorama europeo e internazionale. Quindi se falliscono ci saranno conseguenze anche per noi, lo dovete comprendere i cittadini, anche se non lavorate nel settore, anche se non avete attività produttive. Ecco, queste imprese, questi posti di lavoro non si potevano salvare con quattro mesi di concessioni di suolo pubblico e con criteri troppo stringenti rispetto alle necessità. Quello che ho chiamato e lo ribadisco il contentino del Ministro Franceschini non è sufficiente, non servirà a nulla fino al 31 ottobre. Lo vedete, le strade cittadine sono deserte, il turismo ripartirà, ci dicono le associazioni di turismo, ad aprile 2021. Il deserto oggi lo potete constatare. E quindi questo termine, forse teorico, deve essere per forza di cose rivisitato se ha la vera volontà di salvare le attività produttive. Ecco perché l'Assemblea Capitolina, che come diceva anche il consigliere De Priamo, non è l'ultimo dei comuni italiani, è il primo dei comuni italiani ed ha competenza in materia, chiede con gentilezza ma con forza agli organismi politici sovraordinati, perché noi siamo ordinati agli organismi politici, di dare voce al grido di aiuto delle attività produttive verso almeno il Ministero delle Attività dei Beni Culturali e il Ministero dello Sviluppo Economico, affinché estendano questo periodo che oggi è previsto fino al 31 ottobre 2020, perché no, fino al 31 ottobre 2021, come l'Assemblea Capitolina sta prevedendo con questi emendamenti. Ecco, questo sarebbe un vero aiuto alle imprese e ai lavoratori. Noi siamo Roma Capitale, un ente territoriale che conosce bene il tessuto e la crisi del commercio che ha colpito il commercio romano e ritiene che queste circostanze straordinarie richiedano sforzi straordinari e non lavarsi la coscienza con qualche mese di deroga. Ecco, il PD Capitolino come Cassandra, invece di auspicare il ricorso di cittadini ed enti alla delibera, dovrebbe operare per il bene delle attività produttive, non a parole ma nei fatti, dovrebbero tutelare, dovrebbe essere nel loro DNA, come dicevano, la tutela dei posti di lavoro, ma lo vedremo conti fatti nel dialogo che dovranno avere con il loro portavoce nazionale e che noi cercheremo di avere con i nostri portavoce nazionali. Quindi io l'auspicio che faccio a tutti è che per una volta l'Assemblea di Capitolina sia di esempio, anche se ente sotto ordinato, ai nostri portavoce nazionali perché raccolgano il grido di aiuto di lavoratori e di imprese per tutelare veramente le attività produttive. Ci vuole ospitalità, forse, e senso del bene comune. Noi crediamo che sia possibile, noi con questo voto lo renderemo possibile. Grazie.